partiti allo steccato e lady aliena all'esterno tingui di rica so barkan city resider pigliatutto gavid saum age dream of reality fergiane signifer è in leggero vantaggio a centropista gavid con all'interno lady aliena seguono tingui di rica dream of reality saum arcan city pigliatutto age resider è in leggero vantaggio dream of reality davanti a gavid lady aliena arcan city saum soba centropista conduce dream of reality davanti a saum soba il vantaggio dream of reality davanti a saum soba pigliatutto resider secondo saum saum terzo soba soba quarto resider e quinto pigliatutto dieci cinque a completare i quartieri e si diluitente a grazie a tutti Grazie a tutti